Nel cuore pulsante del mistero che avvolge l'esistenza umana giace un fenomeno tanto enigmatico quanto affascinante le esperienze ai confini della morte, NDE questi episodi che si verificano nei momenti estremi della vita umana quando il velo tra la vita e la morte si assottiglia ci invitano a considerare realtà che giacciono oltre il confine della comprensione scientifica e razionale le NDE sono segnalate da coloro che sono stati sull'orlo dell'abisso mortale ritornando poi per raccontare storie di viaggi in mondi inimmaginabili e incontri con entità che sfidano ogni descrizione terrena l'esperienza al confine della morte si verifica in quel momento di estrema precarietà dove la vita si aggira sull'orlo dell'eternità questa soglia oscura è un territorio carico di mistero un luogo dove la coscienza sembra distaccarsi dal corpo fisico e intraprendere un viaggio attraverso dimensioni che sfidano ogni legge naturale conosciuta i racconti di coloro che sono tornati da queste esperienze parlano di una sensazione di pace ineffabile di attraversare tunnel luminosi di incontrare esseri di luce e di rivivere momenti salienti della propria vita in un istante eterno le visioni e le sensazioni riportate durante le NDE sono impregnate di una ricca simbologia che attinge sia dall'inconscio collettivo dell'umanità sia dalle esperienze personali più profonde dell'individuo luci abbaglianti, incontri con defunti cari o figure spirituali e paesaggi che oscillano tra il paradisiaco e l'infernale sono temi ricorrenti questi simboli, densi di significato evocano antichi archetipi e narrativi mistiche proponendo un linguaggio universale attraverso cui l'anima esprime le sue percezioni più profonde e arcane diverse correnti di pensiero esoterico e occulto hanno esplorato le NDE da molteplici prospettive cercando di decifrare i loro misteri e attribuendo loro significati che variano dall'evoluzione spirituale e personale al contatto con dimensioni altre queste interpretazioni occulte vedono nelle NDE non solo un fenomeno di passaggio ma un vero e proprio viaggio iniziatico una sorta di rito di passaggio che svela gli arcani più nascosti dell'esistenza e dell'aldilà in queste visioni l'NDE diventa una porta verso la conoscenza trascendente un'esperienza che può trasformare radicalmente la comprensione dell'individuo sulla vita, sulla morte e sulle realtà ultraterrene mentre il mistero delle NDE affascina filosofi e mistici pone anche una sfida significativa per la scienza moderna i ricercatori si sono avvicinati a questo fenomeno cercando di comprenderlo attraverso le lenti della neurologia della psicologia e della medicina studi hanno proposto che le NDE possano essere il risultato di processi cerebrali particolari che si verificano in situazioni di estremo stress o vicinanza alla morte tuttavia la natura profondamente soggettiva e spesso trascendentale delle esperienze rende difficile una spiegazione completa e soddisfacente così le NDE rimangono un campo fertile per l'indagine e il dibattito un enigma che sfida sia la scienza che la spiritualità a espandere i propri orizzonti le esperienze ai confini della morte ci costringono a confrontarci con le domande più profonde e inquietanti sulla natura della vita della coscienza e dell'esistenza stessa queste esperienze con i loro profondi simbolismi e misteriosi viaggi ci invitano a riflettere sulla possibilità di realtà che vanno oltre la nostra comprensione ordinaria nel loro profondo mistero le NDE ci offrono un enigma un invito ad esplorare con umiltà, rispetto e una mente aperta ai confini ultimi della conoscenza umana e dell'esperienza spirituale in questo viaggio arcano e oscuro possiamo solo sperare di scorgere frammenti di verità nascosti nelle ombre del grande mistero della vita